Bentornati su mettegiuliacci.it. Sabato 22 giugno arriva la perturbazione numero 3 del mese, quella che entro domenica darà il colpo di grazia al caldo africano in tutta Italia. Caldo africano che verrà sostituito da un caldo più sopportabile, con temperature che si riporteranno su valori normali per il periodo. Passiamo all'immagine del satellite virtuale da cui vediamo appunto questa nuvolosità, si tratta della perturbazione numero 3 di giugno che nella giornata di sabato porterà rovesci temporali su Alpi, Piemonte e Bresciano, qualche rovescio anche sui rilievi laziali e abruzzesi e nella Sardegna centro meridionale. Ancora bel tempo invece nel resto del paese con il caldo che non molla le regioni meridionali dove infatti toccheremo ancora punte di 35-36 gradi, mentre nel resto del centro nord avremo valori in linea con le medie stagionali con valori massimi per lo più compresi tra 24 e 31 gradi, quindi valori sì estivi ma più gradevoli. Bene, con questo ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento al prossimo Aggiornamento Meteo